Scoppia nuovamente l'emergenza rifiuti a Foggia e la situazione rischia di peggiorare. Gli impianti sono di nuovo pieni e fermi ed Amium Puglia non riesce a garantire la raccolta in città. Dopo una fase di sostanziale rientro delle criticità all'impianto di trattamento meccanico-biologico di passo breccioso legate ai flussi in uscita della frazione secca e di ripristino della regolarità della raccolta in città e il mancato rispetto dei quantitativi autorizzati in uscita dall'Ager Puglia ha determinato ancora una volta il raggiungimento dei quantitativi autorizzati proprio nell'impianto di passo breccioso. A delineare l'attuale quadro di una città sporca in ogni angolo e che mostra il volto più brutto è proprio Amium Puglia che evidenzia le criticità e la nuova emergenza. L'impossibilità di svuotare in impianto i mezzi della raccolta indifferenziata impedisce la regolarità della raccolta dei rifiuti con notevoli disagi anche sulla raccolta differenziata di tutte le altre tipologie di raccolta. Criticità che si riversano anche nei comuni della provincia che dovrebbero scaricare i propri mezzi a passo breccioso ma che ovviamente vedono preclusa questa possibilità. La situazione è stata ancora una volta portata all'attenzione dei soci della regione Puglia, di Ager e delle prefetture di Bari e Foggia in considerazione della situazione già critica e che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, dicono dall'Amiu. Una situazione difficile che la stessa Amium Puglia dice di subire ma che tiene a precisare sia assolutamente indipendente dalla volontà dell'azienda. Appare dunque evidente che i rallentamenti registrati nell'impianto di valorizzazione energetica di Manfredonia e di conseguenza il blocco dell'impianto di passo breccioso rendono impossibile il ritiro di nuovi rifiuti e quindi il conferimento nell'impianto con un accumulo di spazzatura sui mezzi in attesa di conferire e che è a cascata all'interno dei cassonetti e per strada rendendo la città davvero sporca e a rischio igiene per la salute pubblica. Una situazione che si ripete costantemente, che è stata sottoposta più volte all'attenzione degli organi preposti, alla programmazione dei flussi che sono riusciti a tamponare, continuano dall'Amiu, le situazioni di criticità con soluzioni emergenziali ma comunque temporanee. Un problema che rischia di esplodere come una mina vagante che Amium sostiene di non poter risolvere in autonomia.